Io sono Ezio Bruno, nato a Cavour nel 1958. Fin da piccolo ero, come si dice, un po' un sognatore, mi prendevano un po' in giro perché ero sempre nel mondo delle nuvole. In effetti sognavo sempre a occhi aperti. I miei giochi erano tipicamente il meccano e il trenino elettrico e poi siccome mio papà aveva un'azienda con dei fratelli che praticamente riparava trattori, macchine agricole, era l'unica officina che c'era in Cavour allora, mia mamma mi confezionava le tutine per fare il meccanico e lì mi divertivo a giocare, a aiutare, a fare anche il boccia per gli operai che lavoravano per l'officina di mio papà. 15 anni dopo le medie mi sono iscritto praticamente alle professionali e ho fatto il perito meccanico. Il mio papà che all'epoca aveva, prima aveva, era in società con tre fratelli, a un certo punto uno dei fratelli è andato in pensione, l'altro ha deciso di fare un'altra attività e è rimasto solo. Allora tutti in famiglia ci siamo occupati di far andare questa azienda avanti. Anche mio papà aveva un po' il sogno di costruire, di fare qualcosa di diverso, di non solo fare riparazioni, vendite e cose del genere. Un giorno arrivando dal mercato di Saluzzo che allora era l'epoca il più fiorente che c'era in zona, vedendo una macchina che era l'erpice rotante eccetera eccetera, sentendo i commenti e poi tutti gli agricoltori che ne parlavano dice guarda che interessante questa attrezzatura, sarebbe interessante magari riuscissimo a produrre qualcosa. Allora all'epoca avevamo un cugino che lavorava in una grossa industria come progettista qui nel Pinerolese e lo ha contattato e gli ha chiesto, dico ma ti interessa magari riusciamo a progettare questa roba qua. Allora decidono di partire di fare un prototipo, il prototipo lo fanno, un bel risultato, il feedback era molto positivo, allora non c'erano attrezzature che facessero un lavoro così spettacolare, per cui sull'onda dell'entusiasmo meraviglioso, produciamo, produciamo, bisogno di fare 50 macchine subito. Partiamo e poi cominciamo anche a fare le fiere, cominciamo ad andare a fare la fiera di Verona, cominciamo a vedere anche importatori esteri e cominciamo a fare le prime vendite anche all'estero. Prima ancora ci rendiamo conto che effettivamente a Cavour dove eravamo all'officina lo spazio era stretto, questo. Allora abbiamo deciso di chiedere il permesso di costruzione al paese limitrofo perché a Cavour era bloccato, eravamo andati a Barge, Barge però non ci hanno dato la concessione e allora in emergenza siamo dovuti andare alla ricerca di un capannone che abbiamo trovato in affitto qui a Osasco. Nel frattempo facendo il capannone si è venuta anche a creare l'esigenza di creare un'azienda specifica per la produzione. Allora mio padre mi ha investito di questo bado, se vogliamo, perché era giovane, 19 anni, e ha intestato a me la Franden. Il nome Franden arriva da due componenti dell'alloro a brevetto che era stato fatto, franditori e denti. Nel 77, come dicevo, andiamo all'Eima e conosciamo una serie di importatori, uno tra i quali importante in Baviera. Fatto sta che tiramolo e siamo riusciti con un sconti a fare una campionatura. Faccio la campionatura e io lì ho capito che l'esigenza era un po' diversa da quella che avevamo noi. Volevano delle macchine un po' più strutturate, macchine un pochettino più performanti, eccetera, eccetera. Gli dico che praticamente sarei tornato a casa e che avremmo rifatto una campionatura secondo dei crismi come li volevano. Facciamo la nostra prima vendita, 20 erpici e 30 spandivoltafieno. una boccata di fiducia, una boccata di energia che ci dà molta forza per proseguire. Mi accorgo che lavorare con questi signori, con questi distributori è molto arricchente perché sono esigenti, ma questo ci fa crescere perché ci fa capire che le cose bisogna farle in un certo modo, bisogna farle bene, bisogna guardare avanti e poi c'è il confronto con gli altri produttori stranieri che è molto importante. Cominciamo a lavorare anche con il mercato oltreoceano e quindi le prime forniture in Canada e poi anche in USA. Andiamo avanti e cresciamo sotto quell'aspetto lì. Viene il momento che poi ci rendiamo conto che effettivamente non ci stiamo più in questo capannone. Finalmente nel 2006 riusciamo a fare il trasloco e entriamo nella nuova struttura. All'insegna del benessere delle persone ha come caratteristiche una soluzione a tutti quei problemi che avevamo nel vecchio capannone, quindi pavimento riscaldato, quindi non più la sofferenza del freddo. La struttura molto alta, quindi anche in estate le finestrature si aprono in automatico, finestrature a doppio scelto orientate a nord per avere una luminosità costante all'interno della struttura, cammini di luce negli uffici. Per generare l'energia che serve per l'impianto di verniciatura, innovazione completa, centrale a biomassa. Passiamo a 3.300 metri quadri di coperto con l'impianto di verniciatura, carri ponti, tutto ben strutturato, eccetera, eccetera, e diciamo ma sì, sicuramente qui facciamo, non dico tre volte tante, ma almeno il doppio di quello che facevamo prima. Dopo sei mesi ero preoccupatissimo perché in effetti le cose non andavano così. Casuale che un nostro fornitore all'epoca, che era un fornitore a cui lavorava anche lui a lotti, comincia a lavorare in modo completamente diverso, no? E scopriamo che nel nostro fornitore si è aggregato con un ingegnere che all'epoca metteva a posto gli stabilimenti dell'SKF in ottica Lean Production. Rimango folgorato da questo sistema e mi illumino, no? Perché dico forse questo è il modo giusto di produrre, no? Che io non conosco perché non conoscevo. Un approccio che devo dire oltre ad essere strutturale, diciamo della logica del fare le cose nella sequenza, nel farle in modo tirato e evitare gli sprechi, ha in me una trasformazione straordinaria sull'approccio delle persone. Perché in effetti prima le persone indipendenti erano quelli da, come dire, non dico sfruttare, ma da spingere perché devono fare di più, sempre fare di più, sempre fare di più. In realtà l'approccio della Lean è un rispetto diverso delle persone perché le persone, che sono poi i padroni dei processi, quindi l'approccio alle persone è completamente diverso e qui avviene proprio una trasformazione cruciale, secondo me. Cresciamo, abbiamo dei grossi partner, cominciamo a lavorare anche in ottica OM, quindi produciamo anche per altre aziende e questo ci gratifica molto perché ditte straniere che vengono a farci costruire le macchine da noi vuol dire che stiamo costruendo in modo corretto e bene. I familiari sono una parte molto importante degli imprenditori perché alla fine fanno la differenza. mio papà è stato una figura importantissima per me e me ne sono accorto tantissimo, guarda, quando nel 2010 è mancato. Questo è stato un momento drammatico per me perché sembrava che non esistesse quando c'era, perché alla fine qualche volta poteva anche essere un po' di impiccio, ma in realtà era quella voce, quella assicurazione contro i problemi, la mezza parola, la parola che ti dava conforto e ti dava coraggio. Anche il rapporto con mia moglie è stata molto molto brava a sostenermi, ma soprattutto a sopportarmi perché effettivamente io passavo sabati e domeniche sul tennigrafo, a fiere, mercati, quindi il tempo per la famiglia era sempre limitato. E' grazie anche a lei che sono riuscito a fare quello che ho fatto perché mi ha dato confidenza, mi ha dato coraggio in sostanza. Oggi a 63 anni mi rendo conto che ho realizzato il mio sogno, quel sogno che avevo da ragazzino. Sono contento, è stata una bellissima esperienza, però penso che l'azienda deve proseguire, quindi le nostre 30 famiglie che oggi fanno parte della Frante hanno necessità, anzi è un obbligo per me portare avanti questa Frantent nel futuro. Sto già lavorando per managerializzare l'azienda in modo che cammini da solo e non sia dipendente assolutamente da Ezio, ma devo dire che in questi 5-6 anni già questa cosa non è più dipendente da Ezio, quindi per me è già un bel passo avanti. Penso che il futuro sia quello di un'aggregazione con una partnership con qualche azienda in modo che questa cosa qua venga portata avanti con la visione che abbiamo, la mission che abbiamo e soprattutto con i valori che abbiamo in Frantent. Grazie. Grazie. Grazie.